Ciao a tutti amici viaggiatori e bentornati su Viaggiamo Easy. Oggi vi porto con me in un'avventura davvero unica, un viaggio lungo la mitica Route 66, la strada che collega Chicago a Los Angeles e che ha affascinato viaggiatori di tutto il mondo per quasi un secolo. La Route 66 non è infatti solo una strada, è un simbolo americano. Infatti la chiamano The Mother Road, la strada madre, perché è una delle arterie più antiche del sistema motostradale degli Stati Uniti, ma anche perché attraversa il cuore del paese regalando scorci autentici e pittoreschi che sembrano fermi nel tempo. Immaginatevi infatti 3945 chilometri di pura libertà, un viaggio che inizia nella modernissima Chicago e vi porta attraverso otto stati fino alla città dei sogni, Los Angeles. Ma non è solo la destinazione finale che conta, è infatti il percorso a rendere questo viaggio davvero speciale. Lungo la Route 66 troverete infatti città e villaggi che sembrano usciti da un film, luoghi come Springfield, Amarillo o il famosissimo Cadillac Ranch, luoghi che vi accoglieranno con un mix unico di storia e cultura popolare. E non dimenticate di fare poi una sosta a Othman, la cittadina del vecchio West, dove è facile imbattersi in muli che passeggiano liberi per le strade. Uno degli aspetti più affascinanti della Route 66 è sicuramente la gente che incontrerete. Da altri viaggiatori che come voi sono nella ricerca di avventura, agli abitanti del luogo che fanno di tutto per mantenere vivo lo spirito della strada. Troverete infatti bar, dinner e motel che sembrano cristallizzati negli anni 50, gestiti da persone pronte a raccontarvi storie incredibili su questa strada leggendaria. Viaggiare lungo la Route 66 significa anche libertà assoluta. Puoi infatti fermarti quando vuoi, in ogni angolo che ti ispira, anche nei paesini più piccoli che non sono neppure segnalati nella mappa. Ogni fermata può infatti trasformarsi in una piccola avventura, magari scoprendo un museo, una bottega artigianale o un paesaggio davvero mozzafiato. E se hai paura di perdere troppo tempo non preoccuparti perché la Route 66 corre spesso parallela a un'autostrada moderna. Questo ti permette infatti di recuperare terreno facilmente e in caso di ritardo, senza perdere il fascio della strada, puoi spostarti sull'autostrada principale. Uno dei punti forti di questo viaggio è che inizia e finisce in due delle città più famose degli Stati Uniti. Chicago con il suo skyline inconfondibile e la sua vivacità è infatti il perfetto punto di partenza. Assicurati di visitare anche il Millennium Park e di gustare una pizza deep dish prima di partire. Alla fine del viaggio arriverai invece a Los Angeles, la città dove i sogni diventano la realtà. Dai grattacili di Downtown alla spiaggia di Santa Monica, passando poi per ovviamente per Hollywood, non mancheranno infatti occasioni per esplorare e lasciarsi affascinare da questa metropoli cosmopolita. Lungo il percorso ci sono poi alcune tappe che non puoi assolutamente perdere. Ecco le mie preferite. Il Gatway Arc a St. Louis, il simbolo dell'espansione verso ovest, oppure il Cadillac Ranch vicino ad Amarillo dove potrai lasciare il tuo segno su una delle iconiche Cadillac colorate. Una notte poi nel Grand Canyon per ammirare uno degli spettacoli naturali più incredibili al mondo. Oppure ovviamente Las Vegas, la città delle luci e dei casinò, dove puoi fare una pausa prima di tornare sulla strada. La Route 66 è quindi molto più di una strada, è un viaggio nel tempo, una lezione americana e un'avventura che ti farà scoprire il lato più autentico degli Stati Uniti. Condividi questo video con la persona che sai che ti accompagnerebbe in questo viaggio epico, di cui troverai sicuramente maggiori informazioni in descrizione. Non dimenticarti poi di mettere mi piace per supportare il canale e ci vediamo nei prossimi video.